Vincenzo Accardo, Presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, restano le criticità per i marittimi che devono effettuare i corsi di nuoto e voga per i marittimi di Torre del Greco, di Ercolano e della Campania, mentre invece a Genova c'è la possibilità di effettuare questi corsi? C'è la possibilità di effettuare questi corsi a Genova che abbiamo avuto un'email, domani devo richiamare e prenoterò tutte e 200 ragazze che devono fare questi corsi del nuoto e voga, il corso del voga significa che ogni marittimo che si sta facendo la immatricolazione del libretto nuovo deve fare prima il nuoto e voga che poi questo nuoto e voga non si dovrebbe fare più perché non esiste più quelle zattere o il shop di Sabataccio che andavamo a Rima, oggi ci sono i motori, è tutta una cosa che burocrate, roba del 44, però bisogna fare un nuoto e voga per avere l'immatricolazione nuova, cosa è successo? Covid, noi siamo da ottobre qui tutto fermo in le piscine e tutto, però dei corsi di formazione come vediamo esistono ancora, li stanno facendo, significa che vanno nelle piscine, vanno a girare le zatte però non possono fare il nuoto e voga perché sono privati. Perché la possono fare il nuoto e voga? Allora cosa sto facendo io? Sto organizzando tutti i ragazzi e faccio l'appello all'istituzione, il sindaco Giovanni Paloma, il sindaco di Ercolano Ciro Bonaiuti, il sindaco anche Cuomo di Portici, di darci una trentina di pulma per andare a Genova e portare questi ragazzi a fare il nuoto e voga. Allora noi appello all'istituzione, fate qualcosa di concreto perché vedete che tutti quanti, la capa di Portici dice io non so niente, parlo con quelli lì, io non so niente, cerchiamo la politica regionale, ma tutti quanti stanno immagati, ma scusate, chi è che deve fare qualcosa e deve dare una mano a questi lavoratori? Io ho visto stamattina però un messaggio, ho avuto Whatsapp dal Gallo Luigi che già hanno mandato una lettera all'istituzione a Roma per vedere un po' la situazione, ti ringrazio del pensiero, meno male che c'è stato qualcuno che ha detto qualcosa, mi aspetta gli altri. Oh, quando fate la campagna elettorale, tutti i giorni fuori all'associazione, sotto le case delle persone, non potete fare qualcosa oggi. La crisi è forte e il litera è ancora lungo? E' tantissimo lungo, dovete vedere ancora oggi, MSC, Costa Croce, migliaia e migliaia, ogni nave di questi qua portano 1400 lavoratori a bordo, sono tutti fermi e stanno tutti a casa, ma io vi faccio un'altra domanda, una provocazione, ma scusate, siccome noi qua in Italia stiamo navigando tutti i traghetti senza passeggeri perché sono codice rossa, la Sardegna voglia una vaccinazione per entrare, non si portano passeggeri e le tabelle sono ridotte, ai marittimi non in barco, Ma scusate, qual è la miglior cosa che è ora che partiranno queste navi da crocire? Nessuno ha fatto fare dei corsi di formazione, allora qual è il momento opportuno di imbarcare marittimi italiani su queste navi? Questo è il problema, allora risolviamo il problema di notevo e risolviamo quello che le persone devono mangiare perché qua si pensa che gli uffici di collocamenti gli rifaranno le chiamate di collocamento a questi ragazzi, perché non esistono, perché pure questo ci sta. Io spero che l'istituzione faccia subito qualcosa che da domani faremo tutte le domandine di notevo e voca a Genova e vediamo chi è che le deve portare, perché qualcuno deve portare e non spendere qualcosa di soldi. Io spero che qualcuno si faccia un esame di coscienza, vuoi che è Pasqua, fate qualcosa di importante, la soluzione del Signore, mettete anche qualcosa di soldi per portare questi lavoratori a Genova, cercare poi troveranno un lavoro. Grazie a tutti.